Armato di una pistola ha minacciato una coppia portandoli via due orologi e soldi in contante prima di scappare in sella uno scooter. L'immediato allarme, dato dalle vittime al 112, ha permesso ai carabinieri di intercettare il fuggitivo poco distante dal luogo della ripina. È scattato un inseguimento terminato in tangenziale a collegno all'attezza dell'uscita di Torino in corso alla regina Margherita. È accaduto ieri, nella notte e dopo mezzanotte. Un rapinatore napoletano di 42 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, resistenza al traggio a pubblico ufficiale. Al momento dell'arresto, l'uomo ha posto resistenza, l'interere furtiva è stata recuperata. Grazie a tutti.